che ti ho comprato il tapinarolo per camminare il tapinarolo ragazzi è fondamentale per camminare vero è bellissimo è un bacetto sei contenta tanto da tanto che sognavo che sognavi il tapinarolo il tapinarolo ragazzi cioè di che stiamo a parlare il tapinarolo è il tapinarolo vedi che io e te stessa giacca più bella nel mondo io e te col gilet ok ci sei qui e ti dispiace per gli altri vai e sono tristi perché non sanno più cos'è il gilet il vero amore lo faccio io il vero amore con che? con te con te l'amore è amore l'amore è vero facciamo gli hamburger eh si ma tu non ci mettiamo eh poco si sai di io ho tutta una cosa da seguire eh chiaro? e la cucina tua non è molto indicata perché è molto condita condita no no normale vai sono fatti eh sono bravo no le hai fatte tu bravo eh la tampa taga mia sono un cuoconato sono un cuoconato grazie a lei e a mamma eh che mamma fa le chicche un po' più particolari eh diciamolo non è più tradizionale tu eh io sono artista tipo il cibo per i cani tipo il cibo per i cani ho capito ho detto quando fai video metti un filtro mi fai certe riprese da me tu vuoi il filtro adesso adesso lei vuole il filtro anche lei vuole il filtro ma che ce farete con sti filtri qui è tutto senza filtri tutto ta-tan 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 tutto ripreso il bello è questo della vita senza filtri poi quando ti vedono dicono cazzo eh sei tu no e dopo c'è la sorpresa perché le vedi tutte belle devi arrivare no è questo ah ok basta dio campo basta non è che è pieno no non ce vedo scusa è trasparente l'acqua come fai a vederla no è no è no è